ho anche il nostro giochino classico delle risposte secche quindi io ti dico x e y e te ne dici una senza motivare ok? mi posso dire sì o no? no, devi dire uno o l'altro ok? ah ok ok sono poche, semplici, veloci e indolori, tranquillo no 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 va vai partiamo, allora Fabrizio Corona o Fedez? ma scusate, a livello umano o lavorativo? chi ti piace di più? chi ti piace di più? come personaggio? sì ok allora, secondo me è molto più a PL Fabrizio cioè Fabrizio è proprio non lo so, forse perché magari ho già conosciuto Fedez quindi mi ha tolto, diciamo, quella roba di non conoscerlo Fabrizio è un grande, cioè non so prima di continuare cos'è Fabrizio Corona per voi giovani? ma sai che non ha un'entità cioè nella mia testa non ha un'entità precisa cioè non è che lo conosca bene poi in sé non so cosa ha fatto però su tutti i vari scoop che sono usciti sul web c'è proprio quelli che tutti sanno a livello nazionale poi di specifico no però è un personaggio molto forte cioè ti impatta davanti alla spacca lo schermo sì sì, ti spacca letteralmente lo schermo quindi secondo me è proprio quello il fatto che ha quelle cioè ti attrae ti attrae guardarlo il carisma sì, molto carisma sì, quello Martina Smeraldi o Alessia Lanza? ogni domanda è un colpo al cuore è difficilissimo perché ci sono tanti punti da analizzare e ce n'è uno allora partiamo dai punti da analizzare quali sono i criteri per questa scelta? io nel dubbio Alessia Lanza che magari ci casca in diretta capito? Alessia scelgo te ciao Alessia non l'hai mai avuto Alessia? no è abbastanza difficile portarla in diretta Martina hai provato però? sì sì quindi ti ho poco detto no ma nel termine ho troppo spingendo l'ho chiesto tanto per chiedere però non ho mai fatto un'offerta diciamo ufficiale quale soldi lei? no 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 un'offerta ufficiale nel senso di collaborazione ah in un video no non ho mai pagato nessuno in live ok ok Martina Smeraldi invece no è venuta ah c'è stato anche un bacio? eh non lo fai in palestra TikTok o Instagram? TikTok Grimbaud o Dario Moch? Grimbaud una live con Blur o una notte di fuoco con Anna Pepe? una live con Blur un milione subito o 10.000 euro al mese per 10 anni? 10.000 euro al mese per 10 anni ok soldi o fama? soldi soldi o sesso? soldi ok gurulandi o muschio selvaggio? non mi offendo tranquillo dicano tutti muschio selvaggio seguitemi su Twitch ragazzi seguitemi seguitemi il rosso il rosso ok io qui Grazie.